Musica Ecco il numero 892 892 E il nuovo ET dei numeri telefonici 892-892 Chiama Mi chiamo Q, Eva Q Perché mi affidano le missioni più difficili? Perché agisco rapidamente? Contro la stitichezza prova Eva Q La supposta effervescente che risveglia l'intestino Con la delicatezza delle sue bollicine Eva Q, effervescente, rapida e senza controindicazioni È un dispositivo medico CE, in farmacia Fernovus Saratoga Vernicia sulla ruggine Senza carteggiare Senza stendere l'antiruggine Nel colore che vuoi In non cola Cosa state facendo? Sto verniciando E Giovanna mi aiuta Brava Giovanna Brava Fernovus Saratoga Sai, ci vuole più grinta Ciao ma Che c'è per pranzo Avrei una scelta Fammi Ti vorrebbe qualcosa di fresco E gusto Sentai Perché non mangiamo in terrazzo Sentai Con Simmental Così tenera, magra e gustosa È impossibile non capire Provala con pomodorini, olive nere, sedano e origano Provala con mentale Simmental Il gusto Parla chiaro Sì, mental Figliolo C'è una cosa che devo dirti Non sono tuo padre Sono tua madre E io non sono tuo figlio Sono una marionetta Ia ia Sono una marionetta Ia ia Vi piacciono le sorprese shock? Provate Vivident Blast Vivident Blast Shocking Freshness Mamma Devo fare la pupu Andiamo allora Ma voglio farla da Paolo Non essere sciocco amore Andiamo Io vado a farla da Paolo Il bagno di Paolo Ha Glett Micro Spray È più discreto di uno spray E niente più cattivi odori Ma solo una piacevole fragranza Glett Micro Spray